ebbene carissimi amici ancora ben ritrovati qui sul mio canale buona domenica a tutti voi incomincieremo con l'estrazione di martedì 3 ottobre nuovo mese di gioco ma quest'oggi vi porto una bellissima vincita ottenuta da una previsione ultimissimo minuto che ho presentato alla fine del mese via whatsapp quindi è molto importante che voi mi aggiungiate e che mi contattate via whatsapp in modo da far parte della cerchia dei miei utenti perché tante volte via whatsapp presento delle chicche come questa in abbonamento ho presentato la bomba di fuoco e ho detto a tantissimi di voi che siete nel mio gruppo whatsapp che questa è una previsione fortissima che l'avrei data soltanto in quattro colpi di gioco cioè nelle quattro estrazioni della settimana quindi la martedì 26 bene cosa è successo ho dato una sola terzina che ha diritto nel testimone come quest'utente che mi ha inviato il cedolino gentilmente una terzina bari nazionali eventualmente tutte le ruote soltanto quattro colpi di gioco pensate un po ho dato il 18 56 90 terzina è uscito sulla ruota nazionale al quarto colpo detto fatto 30 settembre estrazione di ieri di sabato 18 56 alla nazionale se usciva il 90 era un terno spaccato alla grande questa è la bomba di fuoco cari amici presentata su whatsapp presentata a partire dall'estrazione di martedì 26 ho presentato questo servizio rapido ultimissimo minuto domenica scorsa snobbato da tantissimi ho detto aderite perché forte snobbato da tantissimi che hanno fatto orecchie da mercante ma i pochissimi che hanno aderito hanno portato a casa una vincita di ambo in quattro colpi di gioco questa è la bomba di fuoco cari amici ogni quattro colpi noi ogni settimana praticamente perché la settimana è composta da quattro estrazioni giocheremo una sola terzina una sola terzina bari nazionale tutte questa è stata la bellissima vincita ottenuta al quarto colpo di gioco col 18 56 sulla ruota nazionale questi sono i fatti reali cari amici queste sono le grandi vincite queste sono le vincite importanti che si ottengono seguendomi sulle mie previsioni previsioni rapide previsioni efficaci previsioni ristrettissime perché vincere in questa maniera con una sola terzina in gioco in ristrettezza perché parliamo praticamente di una ruota più nazionale veramente difficile e questa per me è una grande soddisfazione una grande vincita che mi dà una grande soddisfazione vincente perché è stato un grande risultato quindi di questo ne sono molto contento quindi adesioni di abbonamento ancora aperte pochissime adesioni ancora contattatemi via whatsapp 348 75 47 715 per aderire a questo abbonamento previsioni in grandissima promozione questa è la bomba di fuoco pensate che l'ho presentata domenica presentata domenica quattro colpi vinta al sabato quindi veramente qualcosa di pazzesco 18 56 sulla ruota nazionale avevo insistito detto l'ho chiamata proprio bomba di fuoco perché era veramente caldissima come previsione molti non l'hanno capito molti non hanno afferrato non hanno capito la potenza di questa giocata i pochi che lo hanno capito hanno vinto 18 56 quarto colpo di gioco in quattro colpi quindi mi raccomando a non perdere l'adesione a questo fantastico abbonamento previsioni che giocherà soltanto in quattro colpi di gioco con una sola previsione a settimana per adesso saluto a tutti mister sbancolotto